Negli ultimi anni la domanda di informazione statistica ha aumentata in maniera vertiginosa. La statistica ormai viene prodotta da una gran varietà di fonti, ci arriva dappertutto. Però la disponibilità di statistica non implica necessariamente la capacità di selezionarla. È molto importante che tutti noi impariamo a selezionare la statistica, a selezionare la qualità, a valutarne l'attendibilità, la provenienza. Per questo è molto importante educare i giovani fin dallo Stato, dalla scuola, a capire le statistiche che leggono, che ricevono. Ma la statistica è anche molto importante per la politica economica. Politica economica significa prendere delle misure che migliorino il benessere dei cittadini di un paese. Per poterlo fare occorre conoscere la realtà, occorre conoscere come stanno le cose. La statistica quindi è fondamentale per il disegno della politica economica, ma è anche fondamentale per costruire il consenso sulle misure che poi vanno applicate, perché possano tutti i cittadini capire perché queste misure vengono adottate. E' per questo che questa giornata delle Nazioni Unite, che promuove la conoscenza ed innalza la qualità, il valore della statistica, per questo la giornata di oggi è così importante. Grazie. Grazie.